Il Comune di Teramo, come preannunciato, ha presentato la denuncia contro la devastazione del Bosco Incantato e delle installazioni messe su Corso San Giorgio. Un atto volto ad identificare i responsabili dei diversi atti vandalici fatti nei confronti di addobbi natalizi installati nel centro città. Da anni immediatamente riparati e nonostante le oggettive difficoltà nel risalire all'identità degli autori del gesto insulso, l'ente vuole comunque dare un segnale di reazione ai devastatori notturni. Dal 13 dicembre, dal furto dell'abete costeriano, una serie di atti vandalici si sono susseguiti fino a questa notte. Dispiace perché ci sono delle persone in questa città che non sono capaci di godersi il bello che la nostra città offre in questi giorni. Siamo arrivati al punto, abbiamo deciso di denunciare chiaramente, di fare una denuncia contro i gnoti e quindi adesso cercheremo di chiarire chi ha fatto cosa. Sono episodi che ci dispiacciono veramente perché sono sempre quelle pochissime persone che poi riescono a rovinare quanto di bello e di buono si fa. Ci sono stati atti vandalici nei giorni scorsi anche questa notte? Anche questa notte per il corso è stata una sagoma in legno è stata rotta e rovinata. Noi subito siamo intervenuti, stiamo intervenendo per ripristinarla, però adesso basta, procediamo alle denunce. È una zona piena di telecamere quindi chi ha danneggiato queste strutture dovrà pagare i danni. Ci stiamo preparando i grandi eventi del Capodanno, ci sono le commissioni per la sicurezza, invitiamo tutti a venire in Piazza Martiri perché comunque l'accesso per motivi di sicurezza sarà un accesso controllato, nel senso che tutte le persone che entreranno in piazza saranno sottoposte alla valutazione delle agenti di polizia e delle forze dell'ordine, valutazione chiaramente visiva. Quindi si può entrare e uscire dalla piazza tranquillamente, però per questione di sicurezza è bene che ci siano le agenti delle forze dell'ordine a presidiare il tutto.